Orfeo vive, e non sto parlando del Cavaliere d'Argento conosciuto e poi scomparso durante la serie di Ade, ma del molto meno amato personaggio del primo film, la Dea della Discordia, ovvero il guerriero, il Ghost Saint, che viene riportato in vita temporaneamente da Eris. Nei piani originali, lo spirito di Orfeo però non sarebbe scomparso dopo il primo film, ma sarebbe tornato reincarnandosi in un altro personaggio, e questo personaggio era destinato ad essere Mime di Asgard. Ora, per spiegare questo piano, questo progetto che poi non si è concretizzato, è necessario fare un passo indietro. Dal libretto del terzo DVD box, uscito tra il 2002 e il 2003, per la precisione il Cignus box della serie classica, abbiamo infatti appreso alcuni retroscena appunto sulla programmazione e progettazione della serie storica di Senseia. E uno di questi progetti riguardava la serie di Asgard, per la quale sceneggiatore e produttori vari si riunirono per creare una serie di idee che poi sarebbero state sviluppate nella serie di Asgard che conosciamo. E una di queste idee era che lo spirito di Orfeo si reincarnasse, o comunque rinascesse, nel personaggio di Mime. Se andiamo un pochettino ad analizzare i due personaggi, effettivamente ci sono moltissime somiglianze. Mime e Orfeo indossano armature quasi del tutto identiche, a un netto di qualche differenza cromatica, hanno un aspetto estremamente simile come capigliatura, anche qui a un netto di qualche differenza cromatica, e soprattutto sono entrambi musici ed entrambi affrontano Andromeda e Fenix. E infatti, se leggiamo le note dello sceneggiatore Takao Koyama riguardante Mime, la descrizione dice Questa breve frase è tutto ciò che sappiamo di questo piano originale sul personaggio, ma ci permette di fare due o tre considerazioni. La prima e più interessante delle quali è che, in origine, i film erano considerati, almeno tecnicamente, probabilmente in continuity con una serie animata. Altrimenti, se così non fosse, lo spirito di Orfeo non avrebbe avuto nulla di cui vendicarsi verso Andromeda e Fenix, non avendovi mai incontrati prima in vita sua. Quindi, almeno in fase progettuale, almeno in fase iniziale, è evidente che si consideravano i film come canonici per la stesura dell'anime classico. E va detto che, anche se oggi praticamente nessuno li considera tali, non è proprio un discorso così semplice, così chiaro e così netto, perché una possibilità che siano ancora in continuity, in canon, tutto sommato esiste, non essendo mai stato dichiaratamente affermato il contrario. Fatto sta che, non bisogna ignorare anche un'altra possibilità, ovvero che l'Orfeo, destinato a reincarnarsi in Mime, pur essendo, tra virgolette, lo stesso Orfeo del primo film, non fosse propriamente lo stesso personaggio, ma una specie di versione paralela. Non sappiamo poi come gli sceneggiatori effettivamente intendessero spiegare la faccenda, la vicenda. Fatto sta che, in questo progetto originale, c'era già il seme di questo personaggio musico che avrebbe poi combattuto contro Andromeda e Fenix. E il fatto che i suoi nemici fossero destinati ad essere Andromeda e Fenix effettivamente è qualcosa che è rimasto di quest'idea originale proprio per ripristinare il collegamento tra Orfeo e coloro che lo avevano sconfitto nel film di Discordia. Tutti i piani originari per i Cavalieri di Asgard sono poi ovviamente passati attraverso una serie di revisioni, di rifacimenti, mano a mano che il progetto stesso della serie si è concretizzato. Molte di queste note originari, quindi, sono state modificate o parzialmente o completamente e si è poi arrivati al meme che conosciamo, meme degli episodi di Asgard. A questo punto, qualsiasi riferimento ad Orfeo è stato rimosso, esiste in realtà un riferimento, ma è soltanto qualcosa del doppiaggio italiano che non c'è in originale nel primo film, quando, al contrario, diciamo, rispetto ai piani di Takao Koyama, Orfeo si presenta ad Andromeda dicendo di essere un musico come Mime e Siria, ma tra loro il migliore. Questo perché i film arrivarono in Italia ben dopo gli episodi della serie animata, dopo Asgard e Nettuno, mentre in originale Orfeo è stato il primo musico ad essere creato nella serie di Senseia, quindi è un personaggio che precede Mime, Siria e lo stesso Orfeo del Capitolo Inferno. Un'altra curiosità riguardante Mime e Orfeo è che il design originale di Orfeo era opera di Kurumada, che aveva fatto degli schizzi poi consegnati a Ratohei per il film. Kurumada, quindi, aveva creato Ui, questo, a meno graficamente, questo personaggio, riprendendone poi, se non altro, il concetto e il nome per il Orfeo della serie di Ade. Va detto che, in questo caso, l'armatura è completamente diversa e anche il nome è un pochino diverso, perché l'Orfeo del primo film era Orfeus, mentre l'Orfeo della serie di Ade era Orfè, Orfè. Quindi, per quanto in italiano abbiano lo stesso nome, ma sono due personaggi che hanno paradossalmente quasi meno in comune rispetto ad Orfeo e Mime. Essendo questa versione di Mime molto precoce, molto primordiale in fase di progettazione, non abbiamo modo di sapere quali altri tratti distintivi avesse dovuto avere. Ora, considerando il fatto che era l'anima di Orfeo che voleva vendicarsi di Andromeda e Fenix, è probabile che tutta la backstory di Falken, tutta la storia del suo passato, non sarebbe stata presente in questa versione. Falken è ciò che spinge Mime alla rabbia e all'odio. Nel momento in cui Mime, in realtà, è una rincarnazione di Orfeo, non avrebbe motivo di avere questa motivazione aggiuntiva del suo patrigno. Da questo punto di vista, personalmente, credo che la scelta di rimuovere Orfeo e creare una backstory appropriata per il personaggio sia stato di beneficio per Mime. Si incastra molto meglio nella struttura e nella natura della serie di Asgard rispetto a riprendere un personaggio di un film, per di più un personaggio di origini greche, comparso a servizio di un'idea come Discordia, che con Asgard e con il mondo del Nord Europa non c'enterebbe praticamente niente. Non sappiamo esattamente per quali motivi la produzione, Coyama e così via, abbiano deciso di abbandonare quest'idea, però credo appunto che si siano resi conto che strideva un pochettino troppo rispetto ai progetti che stavano portando avanti per la serie di Asgard. Qualcosa in comune tra Orfeo e Mime è comunque rimasto dal punto di vista delle tecniche, ricordiamoci che se la musica di Orfeo del film non generava illusioni, non era insidiosa come quella di Mime nella serie di Asgard, è comunque proprio Orfeo il primo a sviluppare quella tecnica che avviluppa il nemico nelle corde della lira per poi stritolarlo e ucciderlo. E questa è la stessa tecnica dell'Orfeo della serie di Asgard, e in entrambi i casi la prima povera vittima è Andromeda che si ritrova prigioniero e quasi sconfitto. Ovviamente il combattimento tra Mime e Andromeda è molto più lungo ed esteso rispetto a quello tra Orfeo e Andromeda, anche perché la differenza di minutaggio tra i film e gli episodi è abbastanza netta. Nel film Orfeo comparirà sì e no 4-5 minuti scarsi, mentre Mime ha ben 4 episodi a disposizione. Però ecco, questo era il curioso retroscena svelato dal Cynic News Box, ed è un po' il motivo per cui, anche ad anni di distanza, è sempre utile procurarsi questo materiale extra di Senseia, perché dalle interviste, dalle didascarie, dai commenti escono tanti retrosceni interessanti che permettono di conoscere aspetti anche sconosciuti di questa serie. Ora, voi cosa ne pensate di quest'idea? Orfeo, Mime e l'incarnazione di Orfeo è qualcosa che vi sarebbe piaciuto vedere? Oppure ritenete che sia meglio così, che abbiano fatto bene ad eliminare in toto questa teoria, quest'idea, e a creare Mime che tutti noi conosciamo? Scrivetelo, come sempre, nei commenti qua sotto, e da me anche stavolta è tutto. Alla prossima, ciao!